Ogni giorno i nostri capelli vanno incontro allo stress, anche piccoli stress come questo. Testiamo insieme la tecnologia NutriPlex di Pantene. Abbiamo due campioni di capelli, uno trattato con Pantene, l'altro no. Tagliamo un capello e lo inseriamo nella stress machine. Il capello trattato resiste a più colpi rispetto a quello non trattato. Pantene con tecnologia NutriPlex crea una barriera protettiva che rinforza i legami proteici del capello.